Non ci voglio credere, non ci posso... Oh, ce l'ho pure passato davanti, regà! Non l'ho vista! Guardate, guardate, guardate che cosa hanno fatto, guardate! Buonasera a tutti ragazzuoli e bentornati in Locanda Lead! Se siete qui, probabilmente state cercando gli ultimi pezzi di equipaggiamento per andare a completare al 100% Cat Quest 3? Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì! Gentle Bros, anche in questo terzo capitolo, ci regala tanti easter egg e non solo! Ci mette una zona segreta veramente, veramente bastarda da trovare! Ma andiamo insieme a scoprirla, seguendo questo video! E anzi, se potete ragazzi, lasciateci un bel like per supportare il nostro lavoro! E soprattutto, un bel iscriviti se vorreste essere aggiornati sempre su tutta la nostra pubblicazione e programmazione! Noi vi ringraziamo, vi lasciamo al video e ci vediamo alla prossima! Ciao belli! Non ci posso credere che l'hanno fatto! Guardate questi infami! Non ci voglio credere, non ci posso! Oh, ce l'ho pure passato davanti, regà! Non l'ho vista! Guardate, guardate, guardate che cosa hanno fatto, guardate! Guardate che cosa hanno fatto sti cosi! Non lo so, potrebbe esserci Riccio, non sono andato davanti! Io non me ne so manco accorto! Perché non vado veloce, mannaggia a me, mannaggia! Non mi entra in testa! Lo state vedendo? Sono proprio malati! Sono malati, qualcuno due! Sono malati! Mannaggia la miseria, mannaggia! Non so dove è andata, sono in blind! Ci siamo pure passati qua, regà, però col fatto che sta bianco, di maledetti diventa molto più chiaro! E guardavo la mappa, guardavo i vortici all'interno del mare! Adesso davvero dovete tornare indietro! Per favore, non andate oltre! Vada, ci sta riccio, eh! I psette! Eh sì, per favore! Oh! Che hai detto, bro? Dove stavano i gentle bros? Sono loro, penso, è la rappresentazione di loro! Vediamo un po' Capitano 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 E voi altri chi siete? Cosa fate qui a galleggiare in giro? Perché siete qui? Dov'è questo posto? Gentle bros Deadmond Ferma, ferma! Troppe domande! Tutto quello che dovete sapere è che siete arrivati qui! Ce l'avete fatta con una donazione più a pollice su! Ottimo lavoro! E adesso potete aiutarci! Nessun problema! Vi ricompenseremo con un tesoro fantastico! Allora, cosa ne dite? Beh, un pirata che si rispetti non dice mai di no al tesoro! Allora, di chi avete bisogno voi, tizi strambi? Beh, stiamo cercando di fare una specie di discorso grandioso! Mi lo spiego! Ma al momento abbiamo la testa da tutte le parti! Tipo fisicamente i nostri pensieri sono stati spazzati via! Lo vedete, vero? Quel pezzo di carta lì? Potreste aiutarci a trovare tutti e tre? Dovrebbero essere da queste parti! Dopo potete leggerci gli appunti ad alta voce! Ci aiuterà a riorganizzare i nostri pensieri per il discorso! Trovare della carta? Sarà un gioco da ragazzi! No, un attimo! Un attimo! Stai in mezzo! Devo imbarcarmi! Un attimo! Un attimo! Seconda parte del discorso Gentle Bros! Bene! Magari non sono così bravo a leggere ma un pirata non si arrende mai, vero? Vado! Gli dovevo leggere il primo però, regà! Con Cat Quest ci stavamo davvero giocando il tutto per tutto! Quando abbiamo pubblicato Cat Quest non avremmo mai pensato che ne avremmo pubblicato un altro! Eppure, eccoci qui! Con Cat Quest... Aspetta, quello è un 3, giusto? Cat Quest 3! Ah, 3! Ogni volta che ci pensiamo restiamo senza parole! Non dimenticheremo mai quanto sostegno abbiamo ricevuto dalla community! Dai fan! Da tutti voi! E per questo abbiamo finito! Questa è la prima parte! Ne mancano ancora due! Ah, me li mette in ordine, meno male! Bello, bello! Un segreto barra easter egg! Simpatico! Come sempre! E va bene! Sure me how! Ecco qui! Sono passati 11 anni! 7 vorrei dire! 7 anni dall'uscita di Cat Quest! Non avremmo mai pensato di arrivare fin qui! È stato un viaggio fantastico! Ma non siamo mai stati soli! Beh, per ora direi che è tutto! E sono 2 su 3! Manca l'ultima parte! Sconfiggere il riccio, dici? Oh, ancora c'è spera! Lo zio Gabriel ancora spera sul riccio, maledetto! Ora vado a leggerglielo! Benissimo! Miao! Forse, per fronte ne esiste! Ne abbiamo passate parecchie! Qualche volta abbiamo perso, ma le volte in cui abbiamo vinto sono le più importanti! Ora siamo in 8 nel team! E non avremmo potuto chiedere di meglio! 8 persone hanno fatto il gioco, ragazzi! E non dimentichiamo tutte le persone che ci hanno aiutato lungo il cammino! Facete riconoscimenti! Se lo fate siete davvero Miaoastastici! Ai maledetti! Sempre lo facciamo! Sempre lo facciamo! Ci ricordiamo di tutti voi! E non dimenticheremo mai tutto l'aiuto che abbiamo ricevuto! Non c'è altro da leggere qui! Avete finito? Potete tornare qui! Arrivo! Arrivo Gentle Bros! Ci hai ispirati! Ora abbiamo capito come fare! D'ora in poi ci pensiamo noi! Le preparazioni sono fatte! Pronunti alla dissolvenza in bianco! Ora... Dal profondo del cuore! Noi Gentle Bros! Vi ringraziamo per aver giocato ai nostri giochi! Per essere stati con noi! Per averci sopportati! Sopportati eh! Crabominable in chat ragazzi! Per essere i migliori fan possibili! Ai nostri instancabili ed eroici miau-deratori Gamertron 7005 e 10 Ounce Can! Gatte mille per tutto il duro lavoro! A tutti voi! Da tutti noi! Speriamo di realizzare altri giochi con cui potrete divertirvi! Ancora una volta gatte mille a tutti e mi raccomando abbiate cura di voi! Siate tutti gattastici! Che siate veterani o novellini di Gat Quest! Meritate questo e molto altro ancora! Ecco appunto! Ovviamente ragazzi! Ovviamente! Che mancava! Smoking da Gentle Bros! Arriviamo! Cappello da Gentle Bros! Mi manca l'arma ragazzi! Mi manca il fucile! Fate i matti! No regà arriva il riccio! Arriva il riccio acquatico! Fork! Eccala! 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 Aspettate! Dove siete andati? Insomma ci hanno dato il nostro tesoro certo! Ma sparire così? Beh! Volevamo un'uscita di scena e petto! Per tutti i denti di cane! Ma purtroppo avevo dimenticato di darvi quest'ultima cosa! Forse ci salviamo dal riccio! Addio sul serio adesso! Grazie per l'aiuto! Ci vediamo alla prossima volta! No esce il riccio raga! No 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 no! Arma e... Penso sia 100% ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie a tutti